Siamo qui a San Pietro in occasione della giornata mondiale della Terra. Come ci dobbiamo comportare noi con la Terra? Rispettarla e non inclinarla. E poi? Dobbiamo prendere le bombolette di spray e sprucciare su. Che cosa vorreste fare voi da grandi? Io il Papa. Io l'ho mai inclinata. E Davide? Se fa come due di sognato, non è grande. E io non so se fa roba, ma ho il calciatore e il giocatore di basket. Però noi siamo d'accordo che qualunque sia il vostro lavoro voi vi impegnate, adesso che siete piccoli e per tutta la vita rispettare la Terra? Sì. Va bene, fateci un saluto. Ciao. Grazie.